Boom di somministrazioni per le dosi booster del vaccino anti-covid nel Sagno. Ieri oltre 1.400 accessi e purtroppo non sono mancati disagi presso l'ex caserma Peppicelli dovuti soprattutto alla pioggia che ha reso difficili affrontare le lunghe file. Trend confermato anche oggi per le terze dosi. A meno di un'ora dall'apertura del centro si erano già messe in fila oltre 300 persone. Abbiamo trovato il bel tempo quindi va bene. Un'oretta e passa però si deve fare quindi aspettiamo. No no assolutamente no ci sta una fila regolare abbiamo aspettato una mezz'ora e vanno abbastanza veloci. Abbastanza veloci è abbastanza veloci. Circa un'ora un'oretta va bene una fila che si può va bene così insomma magari con una presentazione forse qualcosa in meno. Però non fanno mantenere né distanziamento né nulla questa la trovo alquanto assurdo perché siamo tutti ammassati. non fanno mantenere distanziamento di sicurezza come da legge. Quindi è un po' la cosa mi angoscia perché ho avuto il covid quindi ho paura in questo momento. Non vedo l'ora di andare e di entrare e di andare via. E l'Asla prova a correre ai ripari potenziando gli orari della struttura. Da domani l'accesso presso la caserma Pepicelli sarà possibile tutti i giorni dalle 9 alle 17 ed il sabato dalle 9 alle 14. Abbiamo voluto mantenere la formula open day spiega il direttore generale Gennaro Volpe per far sì che chiunque possa recarsi liberamente presso le nostre strutture. pregherà i cittadini di evitare gli orari di apertura degli hub che risultano essere quelli maggiormente affollati.